visto cosa vuol dire avere un buon allenatore visto cosa vuol dire dai benvenuti fratelli benvenuti fratelli nerazzurri allora siamo qui a commentare questa vittoria in rimonta contro il verona 3 a 1 dicevo grande allenatore ora io sono sicuro che quasi tutti voi si stanno focalizzando su due punti uno negativo cioè l'errore di andano vicini cui poi parleremo e lo show del nuovo arrivato il tuo correa ho sentito gli altri youtuber fare tutti la canzoncina scimmiottando la carra tucu 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 ok allora io invece mi concentro su altro chi l'ha vinta la partita inzaghi che come ho detto in apertura è un grande allenatore ma non per il cambio di correa che poi va a fare doppietta perché quello lo può sapere nessuno cioè in senso dovesse essere un mago la vera come dire la vera invenzione di inzaghi è stata una cosa che con parrucchino non avremmo visto mai se vi ricordate lui faceva cambi che fanno anche allenatori da prima categoria cioè un esterno per un esterno penso darmi a nakimi o una mezzala per una mezzala quindi non so barella piuttosto cambiato con gagliardini no cosa invece mi va a fare inzaghi e lì vince la partita in un momento dove la costruzione dal basso con brozovic non serviva più a nulla perché noi dovevamo attaccare pesante quindi davanti alla difesa ci potevi mettere uno tranquillamente che recupera e basta che non deve sviluppare il gioco alla brozovic allora lui cosa ha fatto ha tolto brozovic e ha messo vital quindi barella che può tranquillamente fare l'uomo davanti alla difesa ovviamente perdi la costruzione perché non hai il palleggio ma in quel momento della partita non ti interessa a te interessa attaccare e semmai loro ripartono avere uno che recupera quindi barella in quel caso lo può fare benissimo l'uomo davanti alla difesa e così si è permesso di inserire una mezzala di inserimento vital che mi duole ammetterlo perché a me come giocatore non piace assolutamente però ha rigenerato altro che il pupillo di parrucchino con parrucchino ha fatto schifo e ha fatto ridere con inzaghi già da due partite ragazzi mi duole ammetterlo perché ripeto non mi piace come giocatore però sta giocando benissimo ieri è stato decisivo a parte la garra con cui è entrato andava a recuperare palloni ma poi ha fatto quell'apertura splendida per darmian che è stato bravo a impegnarsi a tenere la palla in campo cross gol del tuco correa quindi la partita l'abbiamo vinta lì e un'altra cosa che vi dimostra che inzaghi è un grandissimo allenatore è che sempre a differenza di parrucchino che la tecnica in campo non la prevedeva o se proprio era costretto a metterla poi la toglieva penso ai cambi di ericsson a inizio secondo tempo al 55esimo con gagliardini ieri nonostante cialanoglu non brillasse non lo ha tolto dal campo finché non siamo andati in vantaggio lui l'ha tolto dal campo gli ultimi cinque minuti quando già eravamo 2 a 1 perché perché un grande allenatore così ragiona io mi tengo in campo visto che devo segnare uno che c'è il tiro da fuori uno che può inventarmi l'ultimo passaggio questo è il grande allenatore non quel quel parrucchino di merda e queste cose neanche le considerava infatti poi è stata la qualità a farci vincere come con la qualità di correa ma poteva essere sanchez se poteva essere inserito appunto qualora si riprendesse secondo me uno che utilizzerà molto enzaghi lo stesso cialanoglu magari un tiro da fuori suo eccetera quindi io adoro il fatto che enzaghi finalmente è uno che a differenza non solo di parrucchino ma di parecchi allenatori che abbiamo avuto prima di lui dobbiamo risalire a mancini per andare a pescare l'ultimo che adorava la qualità appunto in zaghi è uno di questi c'è adora la qualità e richiede giocatori di qualità zego stesso è un centravanti di qualità poi che abbia 36 anni che non potrà fare tutte le partite che più forte forse fuori dall'aria quando viene a uscire a fare le sponde che non in aria questo è indubbio infatti se dobbiamo passare ai termini ai punti negativi della partita di ieri è stato dimostrato che ci serve una prima punta fisica integra uno che ti dia la profondità vi spiego meglio l'anno scorso quando defray lanciava 9 su 10 avevi lukaku che la prendeva la prendeva e poi o scarico per l'esterno che si inseriva quindi akimi o apertura dall'altra parte per l'altro esterno perisic o si girava e andava in porta uno così non ce l'è più e di sicuro zego non lo sa fare e non potrebbe farlo a questa età infatti quando ancora defray ha ancora alcuni meccanismi di conto ovviamente lancio lungo palla nel vuoto avrete visto ieri 3 4 lanci che si spegnevano nel vuoto perché ci manca la punta che dia profondità a livello di prima punta quindi l'ideale ovviamente continuo ripeterlo e scamacca io prego che arrivi poi vedremo l'altro punto negativo andanovic ma se andate a guardare non è un errore di quelli per cui noi abbiamo criticato andanovic la scorsa stagione negli ultimi due anni c'è un errore di porta quindi si è buttato in maniera lenta piuttosto che ha sbagliato la presa lì è proprio un errore mentale perché va a fare un passaggio anzitutto direzionato male perché gliela dà a due tre metri rispetto a dove Brozovic si trovi che poverino tenta di fare la scivolata ma non ci arriva e poi la palla è lenta quindi quello è proprio un errore mentale perché poi comunque andanovic tecnicamente bravo difficilmente sbaglia i passaggi ma quello è un errore mentale quindi lui io ho paura che si è invecchiato non solo fisicamente ma anche mentalmente e mi auguro che inzaghi trovi il coraggio di iniziare a far giocare a questo punto orrato perché mettere corda se non ha alcun senso visto che ha la stessa età iniziare a fare un po' una partita uno una partita l'altro perché veramente è un problema andanovic per il resto i tre difensori benissimo come sempre i soliti tre muri bene anche bastoni in fase propositiva a un certo punto si è fatto praticamente 60 metri di campo è andato a tirare e se quello non fa un miracolo segna benissimo Darmian è stato decisivo per la vittoria impegnandosi per il cross per Correa e quindi Danfris avrà tutto il tempo di capire bene gli schemi di Inzaghi per entrare con calma a diventare titolare non benissimo Perisic ma io ho sempre stima per lui e comunque abbiamo Di Marco che anche ieri quando è entrato ha fatto benissimo a un piede eccezionale quindi siamo coperti lì Malino Brozovic Malino Barella e Malino Cialanoglu quindi il centrocampo ieri non mi è piaciuto benissimo invece come ho detto prima Vital quando è entrato grande sostanza anche tecnica niente da dire veramente bravo e decisivo ripeto è stato decisivo vabbè Sensi l'abbiamo visto troppo poco e Iden Vesino anche se nel poco che l'abbiamo visto ho fatto erroraccio una ripartenza poi va a passare male la palla e sprechiamo il 3-1 che poi comunque arriverà con Correa e veniamo alle punte Zeko vedi ripeto non è solo la questione della tenuta fisica cioè in senso si infortunia poi ce l'abbiamo fuori 10 partite non è solo quello ma metti che lui non si infortunasse mai comunque quante partite giocherà ad alto livello già rispetto a Genova c'è stato un netto calo e non si può non notare ma è normale è l'età quindi ci vuole un'altra punta fisica Lautaro bene ovviamente è stato lui a trovare il pareggio abbastanza rocambolesco comunque perché è venuto da una rimessa però va bene l'importante è che la palla sia entrata anche se comunque si vede che Lautaro non è in ottima forma ma viene da un infortunio e poi Correa ragazzi che dire di Correa? allora e molti erano contrari al suo acquisto io vi spiego cioè se l'idea è sostituisco Lukaku con l'accoppiata Zeko Correa non va bene perché se metti insieme i gol di entrambi delle ultime stagioni non arrivi ai 25 di Lukaku ma se mi dici Sanchez ha un problema di tenuta fisica ormai da anni stiamo cercando di liberarcene o comunque sarà la sua ultima stagione e voglio una seconda punta tecnica al posto di Sanchez allora ti dico che Correa è un grandissimo acquisto anche a 31 milioni perché ieri l'ho dimostrato ha una tecnica sopraffina la cosa che mi è piaciuta di più pensate non sono stati i due gol ma quando è entrato dopo neanche due minuti la prima palla che tocca fa un no look dove manda in porta a Barella che poi non avendo tecnica prova a dribblare e spreca tutto ma quello ragazzi è una tecnica spaventosa ovviamente cos'è che ci auguriamo che oltre a farci vedere giocate meravigliose dove salta l'uomo e a noi uno così ci serve perché a parte lui c'è appunto è solo Sanchez che lo sa fare in tutta l'Inter ovviamente dicevo noi ci auguriamo che uno così trovi la continuità dei gol se uno così trova la continuità dei gol ragazzi abbiamo un campione perché l'unica cosa che mi manca è quella la continuità nei gol passare dai 6-8 stagionali ai 15 se ne fa 15-16 trovi un altro Lautaro questa è la verità i gol inutili commentarli favolosi il colpo di testa ragazzi stupendo il tiro da fuori di sinistro e quindi vedi lì ti dimostra che per lui destro-sinistro è uguale cioè questi sono grandissimi giocatori di sinistro da fuori aria così a incrociare all'angolino stupendo quindi niente bene comunque bene bene per tutto soprattutto per Inzaghi ripeto i cambi che ha fatto cambiando interpreti nei ruoli e quindi cambiando strategia durante la partita ci dimostrano che siamo in mano a un grande allenatore gli interpreti invece in campo benissimo nel senso tranne qualcuno però la cosa importante è che arrivi una punta fisica ragazzi ci serve se no non siamo completi ma tolto questo siamo comunque una squadra fortissima un'ultima postilla che devo dire ragazzi allora quest'anno i Gobbi dovranno per forza vincere lo Scudetto perché comunque sapete come ragionano loro è già un anno che abbiamo fallito non possiamo essere secondo adesso è andato via anche Ronaldo quindi dobbiamo per forza rivincere quindi aspettatevi che ci mandino ogni partita da arbitri come quello di ieri che non ci ha dato un rigore grosso quanto una casa sull'1-1 che quello è un rigore grosso quanto una casa ma non solo perché lo spinge perché col piede sull'autaro cioè è fallo gli tocca il piede lo sbilancia oltre che lo spinge quello è fallo è giallo quindi è rigore e non ce l'ha dato quindi aspettiamoci tanti di questi episodi durante questo campionato speriamo di essere sempre più forti mi raccomando iscrivetevi al canale quindi cliccate su iscriviti subito dopo se vi piace ciò che dico lasciate un like un commento e vi faccio una domanda per chiudere secondo voi chi vorreste ovviamente di quelli acquistabili come punta fisica io scamacca e voi? il nostro solito saluto latino vi dete mox grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti